Incidente nel pomeriggio di giovedì 1 aprile in piazza Roma a Revine. Incidente per fortuna lieve e senza danni alle persone, ma che ha creato non pochi problemi alla viabilità, paralizzando via Ponte Roda che, nonostante le dimensioni ridotte, è una strada di un certo traffico. Secondo le prime ricostruzioni affidate al personale della polizia locale, a corso con un equipaggio, la vettura proveniente dalla zona chiusa al traffico, salvo deroghe, avrebbe centrato una fioriera, tentando di oltrepassarla.